Per quanto riguarda i dati sanitari del nostro territorio, comunico l'ultimo aggiornamento. Un aggiornamento ad oggi. Oggi hanno fatto 2.288 tamponi, i casi sono 245. Ci sono 8 decessi oggi, 2 di Modena. 589 guariti. I guariti complessivi sono 11.170. La malattia in corso è 8.752. I ricoverati sono 550. In terapia intensiva è 90 e subintensiva è 94. In altri reparti è 456. I casi confermati in isolamento domiciliare sono 8.202. I casi contatti in isolamento domiciliare sono 6.725. Per quanto riguarda l'indice di replicazione RT, è un importante aggiornamento rispetto alle mie precedenti informazioni. L'azienda Asa ha ormai recuperato tutto il ritardo nella riflettazione dei tamponi che si era verificato nelle ultime settimane. Pertanto i valori dell'indice RT sono da considerare affidabili anche per gli ultimi giorni. Il 17 novembre l'indice era 0.9, 7 giorni prima era 1.2. E quindi confermato il calo dell'indice dopo il picco della seconda metà di ottobre. Ormai il valore è poco sotto del valore di soglia 1. Grazie. 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 Grazie a tutti.